un flash da Monza con Giulio Delfino per il Gran Premio di Formula 1 secondo e ultimo pistop per Kimi Raikkonen che seguiva Schumacher a due secondi e mezzo dunque il fatto che Raikkonen si sia fermato prima del tedesco per la seconda e ultima sosta è un vantaggio ulteriore per la Ferrari del sette volte campione del mondo che dunque comanda il Gran Premio e fra poco si fermerà per la seconda sosta ma matematicamente a meno che non ci saranno intoppi nel cambio gomme nel rifornimento carburante Schumacher dunque rientrerà in testa al Gran Premio di Monza quando mancano soltanto 14 giri alla conclusione Alonso per ora naviga in quinta posizione ma dobbiamo aspettare tutti gli altri pistop perché Alonso dovrebbe retrocedere di un paio di posti a Genova la partita non è ancora cominciata attenzione Dotto c'è una novità dal Gran Premio di Monza che riguarda Fernando Alonso gran colpo per lui strategia perfetta per la Renault Alonso è rimasto in pista più degli altri ed è riuscito a guadagnare ben quattro posizioni ha superato Barton il compagno di squadra Fisichella, Massa e Kubica e dunque adesso Alonso è in terza posizione tutti quanti hanno completato il loro ultimo pistop mancano dieci giri alla conclusione del Gran Premio questa la situazione dunque quasi definitiva Schumacher su Ferrari in testa al Gran Premio d'Italia quattro secondi di vantaggio nei confronti di Raikkonen poi più lontani staccate di quasi mezzo minuto abbiamo Alonso in terza posizione attenzione c'è un motore della Renault che va in fumo c'è un motore della Renault che va in fumo e Alonso, Alonso scoppia il motore di Fernando Alonso, clamoroso colpo di scena nel Gran Premio d'Italia Alonso non rompeva un motore da tre anni incredibile, clamoroso colpo di scena Alonso si ritira dopo una sensazionale rimonta dunque zero punti per lui parcheggio in questo momento la sua Renault a bordo pista e dunque zero punti per Fernando Alonso Schumacher in testa al Gran Premio d'Italia nove giri alla conclusione potrebbe essere un dieci a zero pesantissimo che riporterebbe Schumacher a soli due lunghezze da Fernando Alonso dunque clamoroso colpo di scena a nove giri dalla conclusione c'è nel motore Renault del monoposto del campione del mondo e dunque Schumacher ora in testa davanti a Raikkonen terzo posto per Kubica davanti a Massa, Fisichella quinto e poi via via tutti gli altri un momento importantissimo per il mondiale di Formula 1 ancora giugio delfino per la Formula 1 manca poco più di un giro la conclusione del Gran Premio d'Italia Schumacher saldamente al comando della gara ma ricordiamo importantissimo qualche minuto fa il ritiro di Fernando Alonso per il cedimento del motore Renault quando mancavano nove giri alla conclusione dunque si profila un dieci a zero pesantissimo in vista del campionato mondiale in vista del rush finale ricordiamo dopo questa gara mancheranno tre Gran Premio alla conclusione Cina, Giappone e Brasile e in questo momento Schumacher è a sole due lunghezze da Fernando Alonso la situazione dunque quando manca un giro alla conclusione Schumacher in testa sette secondi di vantaggio sulla McLaren di Raikkonen per il terzo posto Kubica su BMW è tranquillo perché ha cinque secondi di vantaggio su Fisichella che a sua volta è inseguito da Button Barrichello, Trulli e Eidfeld Massa sta cercando di guadagnare un punticino prezioso per la Coppa Costruttori sta inseguendo Eidfeld sta cercando di superarlo se vuoi Provenzali vado avanti perché mancano ormai soltanto una quarantina di secondi alla fine di questo Gran Premio importantissimo d'accordo importantissimo grazie per il mondiale di Formula 1 Schumacher ricordiamo che cinque Gran Premi fa aveva ventuno punti di distacco da Fernando Alonso poi è cominciata è cominciata la rimonta per il pilota tedesco con la tripletta negli Stati Uniti in Francia e in Germania poi le grandi occasioni mancate sia in Ungheria che in Turchia dove Schumacher ha commesso degli errori e ha regalato punti preziosi a Fernando Alonso ma oggi c'è questo dieci a zero che resetta tutto getta tutto nel passato Michael Schumacher che taglia il traguardo conquista per la quinta volta il Gran Premio di Monza e torna nettamente in corsa per il titolo mondiale ora è a soli due punti adesso di distacco per Schumacher nei confronti di Fernando Alonso e fra poco potrebbe esserci anche l'annuncio del ritiro del pilota tedesco dalla Formula 1 ovviamente a fine stagione per quanto riguarda la Coppa Costruttori già che ci siamo provenzali così chiudo la Ferrari ha scavalcato la Renault ed è in testa con tre punti di vantaggio dunque meno due nel campionato piloti più tre in quello costruttori e te la linea naturalmente potrai intervenire qualora ci sia la lettura del comunicato del Ferrari noi restiamo sempre in ascolto prova a fare in Messina la partita qui allo stadio San Filippo il parziale sempre di zero a zero quando siamo arrivati attenzione Raffa è ufficiale il ritiro di Michael Schumacher dalla Formula 1 è stato consegnato in questo momento il comunicato dalla Ferrari come promesso a fine gara sul comunicato c'è scritto che appunto a fine stagione comunque andrà il mondiale di Formula 1 Schumacher si ritirerà dunque è la fine di una leggenda davvero grandiosa la carriera di Michael Schumacher sette campionati del mondo forse otto per come è andata a finire questa gara Schumacher in questo momento quasi lacrime sta raggiungendo il podio dove festeggerà la sua quinta vittoria a Monza la novantesima in carriera decisamente commosso Michael Schumacher da questo momento dalle 15.24 è ufficiale Schumacher a fine stagione si ritirerà dalla Formula 1 a te la linea io sono molto molto contento per essere qua per di più dieci anni con la mia famiglia Ferrari era un tempo bellissimo per i miei amici particolarmente il grande amico Jean e anche il nostro presidente due persone molto importanti per la nostra situazione il nostro successo ma adesso è il tempo fare una decisione per il futuro per me Ferrari ha fatto una decisione fantastico per la fruttura dei piloti con Raikkonen e Filipe una grande combinazione per me così anche una responsabilità della mia parte lascia fare continuare il successo della Ferrari ho fatto la decisione non è possibile per me avere l'energia la motivazione che io ho bisogno per fare e anche forza bisogno per fare un lavoro come devo fare per essere in prima posizione non è possibile per me pensare della fruttura posso fare questa cosa per questo ho fatto una decisione per me una grande emozione particolarmente oggi perché abbiamo vinto la gala i tifosi erano molto grandi sono molto emozionato per questa cosa e anche particolarmente la mia famiglia Ferrari e la mia moglie tutti sono i miei amici e sono molto contento che ho avuto la possibilità di lavorare con tutti i miei amici in Ferrari un lavoro un tempo bellissimo e grande all'età di 15 anni Michael Schumacher per sbarcare il Lunario lavava le macchine in un'officina di Kerpen ma già sapeva che il suo futuro era legato alle corse di famiglia povera se non fosse stato per un amico del padre che pagò 250 marchi per iscriverlo ad una gara di Formula Minore oggi Schumacher non sarebbe la leggenda della Formula 1 l'esordio nell'olimpo dei piloti avvene nel 91 grazie all'arresto del pilota belga Gachot alla vigilia del Gran Premio di Franco Champ Eddie Jordan su segnalazione di un dirigente Mercedes fece svolgere a Schumacher un test a Silverstone in cui il tedesco lasciò tutti sbalorditi il Gran Premio andò male perché Schumacher bruciò la frizione al via ma un certo Flavio Briatore all'epoca in Benetton avea già fiutato il suo talento e appena 4 giorni dopo lo portò con sé nella scuderia con cui poi conquistò i primi titoli mondiali nel 94 e nel 95 l'anno successivo fallito l'assalto ad Ayrton Senna Montezemolo e Jean Todd ingaggiarono Schumacher che riportò il titolo a Maranello dopo un'interminabile attesa di 21 anni 68 pole position sono 90 vittorie con quella di oggi e 7 titoli mondiali che forse potrebbero diventare 8 16 anni di corse e oggi l'annuncio dell'addio che in realtà si consumerà il 22 ottobre in Brasile non chiudo la mia carriera oggi abbiamo altre 3 Gran Premio a questo vogliamo concentrare però tutti i nostri tifosi in cruce le vite per l'ultimo 3 Gran Premio grazie a tutti i nostri tifosi una famiglia povera zero marchi in tasca ma un talento che non poteva passare inosservato Schumacher aveva solo bisogno di un colpo di fortuna per diventare leggenda un giorno il destino premiò la sua audacia un amico di famiglia impietosito dalle sue lacrime lo iscrisse ad una gara di velocità pagandogli 250 marchi mai investimento fu più indovinato perché da quel giorno Schumacher oltre a leggenda diventò una miniera di denaro in pochi sono riusciti a non guadagnare insieme a lui fra questi Eddie Jordan che lo lanciò per caso in Formula 1 ma poi se lo fece soffiare da bretore il giorno dopo l'esordio 68 pole 90 vittorie 7 titoli mondiali che forse fra un mese diventeranno 8 Schumacher ha diviso la critica e persino il suo ambiente la sua forza in pista ha generato invidia ma un giorno probabilmente già l'anno prossimo mancherà a tutti in particolare a Jean Todd che di lui è stato il vero angelo custode nei momenti belli come in quelli difficili Michael e Michael Michael e Michael quando ha un problema in qualifica Michael è sempre grande Michael e Michael quando fa un errore perché ho detto prima di essere un gran campione Michael è un gran personaggio a 50 anni farà ancora ricordare quello che ha fatto è uno che ha un cuore immenso più grande che il suo che il suo talento di pilota è uno che ha sempre accettato il suo errore ha mai dato la colpa a nessuno anche nei momenti difficili che abbiamo vissuto insieme non dico che il migliore pilota dell'istoria perché come si può comparare Michael a Fangio a Jim Clark è uno che ha fatto quello che è sicuro che ha tutti i ricordi non vorrei fare oggi delle conclusioni perché per me quello che è importante adesso ci sono delle prove importanti la prossima settimana quella dopo poi c'è la Cina c'è il Giappone c'è il Brasile e poi faremo il punto non so ancora ha vinto 90 ma mi auguro che potremo festeggiare 93 grandi premi anche se lo dico con grande prudenza e grande umiltà perché questo ragazzo che ha detto mi fermo e tutto per il momento è qui non dico che il migliore pilota dell'istoria quello che è sicuro che ha tutti i ricordi della storia vorrei vedere uno battere i suoi ricordi fortunatamente non penso che sarò vivo per vedere uno battere i ricordi di Michael comunque è un ragazzo unico rimarrà unico perché con la Ferrari e collegato alla Ferrari Michael tra 50 anni farà ancora ricordare quello che ha fatto che non è finito l'annunciato addio di Michael Schumacher prende la prima pagina di una giornata sportiva ricchissima di avvenimenti lascio a fine stagione ma prima provo a vincere il mondiale ieri a Monza gara dominata Alonso che rompe il motore solo due punti di distacco adesso tra il campione del mondo spagnolo e il campione tedesco tre gran premi alla fine lo dicevamo Schumacher ci proverà per regalarsi l'ottavo titolo personale il sesto in Ferrari nonostante questo lo scopritore di Schumacher Flavio Briatore con il quale il pilota tedesco vinse i primi due mondiali alla guida della Benetton continua a essere polemico su questo mondiale lo ascoltiamo al microfono del nostro inviato Giulio Delfino Flavio sembrava tutto scritto in questo weekend sembra tutto scritto credo che qui l'hanno scritto e l'hanno letto e l'hanno fatto poi un problema motore può sempre succedere credo che un problema tecnico può succedere anche a noi questo non è fatto tutto il resto che non doveva succedere a cominciare dai damper e cominciare da tutto il resto per cui adesso credo che siano tutti contenti abbiati loro visto che alzavano le mani da tutti quanti tot felice vincere così credo che sia una cosa non lo so io poi sono loro che hanno il calciopoli rispetto a questa roba che fa ridere grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri